C'è poco da dire, siamo in un momento dove ogni mezz'errore lo soffriamo, ogni mezz'errore ci punisce e è difficile perché adesso secondo me è da questi momenti che si vedrà il valore di questa squadra che sicuramente è molto alto perché ne verremo fuori sicuramente da questo periodo. E poi l'avversario comunque come noi arriviamo da un momento no, anche il Palermo comunque arriva da una sconfitta e poi penso che una società, una squadra come il Palermo abbia qualche pressione in più rispetto a noi perché è una rosa fatta da zero, è una rosa con delle ambizioni molto grandi. Quindi secondo me sono più loro che devono assolutamente fare il risultato, assolutamente vincere. Noi andiamo con grande serenità, tranquillità, sapendo che nonostante tutto noi prepariamo molto bene la settimana, prepariamo ogni minimo dettaglio e poi dopo ce la giochiamo con tutti, quello che abbiamo sempre fatto e quello che continueremo a fare. Grazie.